Ciao a tutti ragazzi bentornati su Gamebusters e su Red Dead Redemption 2. Allora siamo nei pressi del nostro accampamento e abbiamo una missione attiva di Osimethius, ma ve la faccio vedere. Allora eccolo qua, allora Osimethius, pubblicità di una nuova passione americana, 2. Abigalti ha detto che Osim e John ti stanno cercando nei pressi del nascondiglio del moonshine, quindi mettiamo l'indicatore e andiamo. Il nostro navigatore satellitare, allora abbiamo cambiato di nuovo cavallo, non so se avete notato. Vediamo un po'. Perché ci ha disarcionato il cavallo? Oh! Ok. Allora, rientriamo in strada. Consegno il moonshine alla tenuta Braithwaite, mamma mia, per leggere sono andato fuori strada. Andiamo su. E' una padrona, ok. Ok. Bene. Lo rischierei comunque. Ok, intanto questo si è messo sul carro. Va bene. Andiamo. Vole il carro già da reggero, poi si è messo pure questo sopra. ... Ci hai raggiù, non. No, perché non ci sono messi con il mondo? Di cosa? Adesso non ci sono messi con il mondo. E' un po' di shop. È immigrati, ma non ci si è messo. Ma con noi, abbiamo messo in casa. Ma con noi, abbiamo detto, ma non li**a non potrebbero vedere il tuo nome di lui. C'è ragione però C'è ragione C'è ragione ma che classe la signora ok cioè in pratica ci ha sputato in faccia con i suoi soldi praticamente allora adesso dobbiamo andare a Rhodes andiamo qua a destra e mo come faccio a retromarcia, maledizione che si fa adesso? vabbè andiamo lì qua e poi vediamo ah sti carri sono difficilissimi da guidare ok ci ha messo il cappello da mandriano dai ma con vestito da conte poi dai ho la stelletta da sceriffo pure dai ci dobbiamo sempre far riconoscere ok facciamo sta curva oh cazzarola ma come si fa a retromarcia, maledizione ci siamo incastrati per sempre ci siamo rimasti bloccati così vabbè si era bloccato tutto ragazzi ok stavolta la curva è andata bene dai attenzione ma c'è traffico in questa Rhodes dai vada qua ma come ne usciamo da questa situazione? ah dobbiamo entrare qua dentro dai facciamo passi no passiamo prima noi dai ok entra qua perfetto ci siamo riusciti ci siamo riusciti allora prendiamo il moonshine andate come cammina Arthur dai ok vedete al bancone del saloon e facciamo una festa ok 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 ragazzi 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 Il mio nome è Melvin, che è mio fratello Fett, è un po' divertente, ma il mio fratello è un po' divertente, ma è un po' divertente, per i prossimi 30 minuti, i fratello in questa barca, in questa provincia, sono completamente gratuito! La only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fett to work! Don't get him mad, though, his mama made him mad, and we buried her, poor thing! Allora, solleva il bicchiere, solleva la bottiglia Serve davvero Ah, ok Proviamo il bicchiere, solleviamo la bottiglia E va bene, servire bene Ah, proprio a Festino si è aperto Ah Trova a finire malissima, eh Ok Si stanno facendo come la sfravegatura, praticamente Ha ha Recentemente È quel guai, è quel guai È quel guai Cosa Ch binetti Cosa Cosa Quattro In Whatsapp Là Quattro Bolognese Cosa Chico Non si vede niente però Bene, provi in bocca Perfetto Noi qua non dovevamo usare armi Dai dai dai, sali 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 Arthur Arthur, che cazzo? Sali Dove dove dove? Ti segui? Andiamo 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 Dai che la situazione è affatto buona Cazzo Fende male che non siamo ubriachi però Dai corri 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 Possiamo cambiare arma? No Questo fa più danno però Cadenza di tiro dai è meglio Eh dai Ok La situazione non è affatto buona Cazzo Dai ce ne sono altri Dai 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 Ah, quello è volato proprio così. Dobbiamo saltare sul treno, secondo voi? No. Forse siamo salvi, no? Ancora no. Abbiamo finito le munizioni, bene. Perfetto. Dai, cazzo, su. Al momento no. Eh, sì. Secondo me sì, secondo me sì. Forse secondo me. E se rimaste quattro bottiglie però, oh sì. Va bene. Vediamo com'è andata, penso, in maniera disastrosa. So, cosa d'you think? About what? Fai e folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Riches, crisis, and on the other, their mortal enemies, the Braithwaite, moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. And in gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. Adelicto, no? You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us in trouble. But we need money. Now we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here. Because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor 2. Now you can meet up with them or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side. And then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. At least the ball for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Va bene. La situazione si fa bella ingarbugliata comunque. Allora, missione completa, pubblicità, una nuova pressione. Vediamo un attimo come è andata. Abbiamo ottenuto il bronzo, naturalmente. Allora, uccidi 5 lemon eye nel saloon con un colpo alla testa. Compete la missione con una precisione non inferiore al 90. Compete la missione senza usare oggetti che ripristinano. Ma io non le uso, non ho ripristinato la saluta. Non so perché me la fa vedere così. Va bene. Bello sto primo piano di Arthur. Ok ragazzi, direi che con questo appuntamento possiamo anche salutarci qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate commenti, lasciate iscrivetevi ai vostri amici. Se vi va, iscrivetevi anche ai nostri canali social. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento, sempre qui su Gamebusters. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.